Ed è un progetto che ci aiuta a riflettere, ci aiuta a riflettere sulla situazione attuale dei centri. Quello che pensano qui non frequenta più e quindi possiamo ricavarne dalle interviste motivazioni per vedere come ricontattarli, come poterli riportare dentro i centri, dato che comunque non c'è un giudizio negativo per quanto riguarda l'abbandono della loro attività per i centri, ma è dovuto prevalentemente alla paura del Covid. Dall'altra parte dobbiamo in un qualche modo, il progetto ci aiuta a rafforzare l'idea che i centri devono cambiare. Guardiamo con interesse le case di quartiere, cercheremo nei prossimi giorni proprio di approfondire bene come sono intese le case di quartiere, perché le due esperienze che abbiamo in regione, quella di Bologna e quella di Reggio, non sono esattamente uguali, sono un po' diverse. Le case di quartiere probabilmente devono adattarsi alla realtà nella quale operano. Noi crediamo che sia importante anche nelle case di quartiere mantenere la nostra autonomia associativa, mantenere l'autonomia dei volontari perché i volontari sono le prime antenne sul territorio. Poi dopo è indubbio che avremo bisogno di collaborare con le amministrazioni, ma prevalentemente il primo impatto è la collaborazione fra il mondo del volontariato. Il mondo del volontariato all'interno del forum sta portando avanti delle cose interessanti per quanto riguarda la nostra regione, noi siamo all'interno del forum e all'interno del forum vogliamo operare per cercare di risolvere, contribuire a dare delle risposte che la società ci chiede attualmente.